Due bare, una accanto all'altra. Sono state celebrate insieme a Napoli le sequie di Michele Liccardo, di 32 anni, e Giovanni Rinaldi, di 34, tra le vittime del Norman Atlantic, il traghetto sul quale alla fine dello scorso dicembre divampò un incendio. Insieme con le famiglie dei due autotrasportatori, i colleghi della ditta per la quale lavoravano, la Eurofish, tutti con il giubbotto da lavoro. I due erano a bordo del traghetto perché trasportavano pesce sui loro mezzi. Sono vittime del lavoro, ha detto il vescovo ausiliare di Napoli, Lucio Lemmo, durante l'omelia. Michele e Giovanni hanno perso la vita risucchiati dalla violenza del mare, dopo essere scampati alla violenza dell'incendio che ha distrutto anche i loro mezzi di lavoro. In chiesa durante le sequie è stato esposto il gonfalone della provincia di Napoli, listato a lutto. Le autopsie condotte sulla salma dei due autotrasportatori napoletani hanno evidenziato la morte per annegamento dopo assideramento in seguito all'impatto con l'acqua gelida di quella notte. Il dolore esplode al termine dei funerali quando un applauso ha accompagnato il volo di palloncini bianchi. In chiesa anche Biagio Cacciapuoti, il direttore del mercato ittico di Mugnano, che ha raccontato quanto sia stato straziante a prendere di aver perso così due vite. Ascoltiamo. Noi saremo molto vicini alle famiglie per tutto quello che sarà necessario. Questi sono eroi che contribuiscono poi alla società napoletana. Presente ai funerali anche Maria Spina, moglie di Carmine Balzano, il napoletano ritenuto ancora disperso, che sfoga così la sua rabbia all'uscita dalla chiesa. Pino Daniele si è pullato perché era Pino Daniele. Mio marito che era un grande lavoratore non si ha detto niente. Non hanno detto niente per mio marito. Pino Daniele se l'hanno fatto tanto. Per terrorismo. Ma perché i terrorismo? Che sto qua a dire per terrorismo? Sai i terroristi chi sono? Io sto a dire un terrorismo perché non non hanno fatto niente. Che direi che l'hanno sparato, hanno chiesto in un'altra maniera. È uguale.